Hi guys! Come sapere se un sito di vendita online è affidabile? Come capire se un prodotto così tanto desiderato a quel buon prezzo effettivamente può essere nostro? Ci sono siti che in alcuni momenti dell'anno nascono come funghi ed è difficile distrigarsi nel mare magnum di internet. Spesso vengo contattato per capire se un dato sito è affidabile o meno. Ecco, voglio condividere con voi il mio modus operandi per scoprire se un sito è affidabile o un'abile truffa. Intanto io parto dal presupposto che non mi fido a prescindere. Allora, mi è stato condiviso questo sito. Questo sito, bellissimo. Anche un bellissimo stile, prodotti, recensioni. Sono tutte 5 stelle. Mi è stato condiviso questo sito poco prima di Black Friday. Mi è stato chiesto se era affidabile acquistare da questo sito. A primo impatto è un sito spettacolare. Recensioni, 5 stelle, 3 recensioni in realtà. E poi, soprattutto, una cosa ha attirato la mia curiosità. Questo qua, basato su 229.000 recensioni. 4 stelle e mezzo. Su Trustpilot. Trustpilot è un sito che gestisce le recensioni. Trustpilot è un colosso. Cioè, se Trustpilot dice che ci sono 4 stelle e mezzo, ci sono 4 stelle e mezzo. Effettivamente, 229.900 persone hanno recensito questo sito e questo servizio. Poi abbiamo reso gratuito senza stress, pagamenti sicuri, assistenza clienti. Bellissimo. Dal 2019 che sono in attività, è bellissimo tutto quanto. Ma, nel momento in cui ho aperto questo sito, ho visto che qua c'è un errore. Un sito del genere non può avere questo tipo di errore, in basso a sinistra. Visto con il computer, non con il cellulare. E, soprattutto, questa voce qua, questa indicazione qua, this site is not part of Facebook, eccetera, mi ha un po' lasciato perplesso. Quindi, sono andato a vedere su Trustpilot, se effettivamente c'erano tutte quelle recensioni. Trustpilot.com, ecco qua, scopri il potere delle recensioni. Questo è il sito, scrive recensioni, trova aziende affidabili. Trustpilot ha fatto la sua fortuna con le recensioni affidabili. Cioè, se un sito è qua sopra e ha una stellina, vuol dire che merita una stellina. Se ne ha 5, vuol dire che merita 5 stelline. Ecco, io ho cercato stile ecosfera. Lo copio da qua, per vedere se effettivamente avesse 229.000 recensioni. Il problema è che ne ha solo 4. E le stelline date da Trustpilot è 2.6. Quindi il sito non è più affidabile. Non diventa più, non è proprio fatto per gli acquisti. Truffatori, vendita con abbonamento senza nessun avvertimento, nemmeno scritta in piccolo, non è una truffa, eccetera. Il signore qua, poi c'è un altro, sono incappato, truffa, truffa, truffatori. Le uniche 4 recensioni sono truffe. Quindi questa voce, questa indicazione qua, grazie per la fiducia, escezionale, 229.000 recensioni, è fasulla, questa immagine è fasulla. Ma non c'è solo Trustpilot per avere un'idea dei vari e-commerce. Rimaniamo su questo sito che stiamo prendendo in esame e che mi è stato condiviso tempo fa e che purtroppo vedo ancora in attività. Quello che mi ha fatto suonare un campanello d'allarme sono i link in fondo alla pagina. Sono quei link che voi dovete andare a vedere. Perché devono, è vero che la normativa dice che devono essere lì, ma devono essere anche dei link che ci indicano le condizioni di vendita, la privacy, il pagamento, il refund, cioè il rimborso. Ci sono siti tipo Amazon e altri marketplace che hanno fatto la loro fortuna anche per il rimborso, a prescindere. Le condizioni di vendita devono essere chiare. Invece questo sito, purtroppo, queste condizioni di vendita, questi termini e condizioni, sono scritti, ripresi da chissà dove o comunque in modo che siano difficili da comprendere. Ultimo metodo per scoprire se un sito è affidabile, io preferisco prendere il nome del sito, lo metto su internet e ci scrivo a fianco truffa. E guarda caso, stile ecosfera, le recensioni esce Trustpilot come primo risultato, esce poi il sito in questione come secondo e poi tutte le recensioni e la truffa dei vestiti su Facebook, come riconoscere un sito falso. Addirittura c'è il Copilot, stile ecosfera, un sito web e 20 prodotti, secondo le recensioni Trustpilot ci sono molte recensioni negative che affermano che il sito è una truffa. Spero che il video vi sia piaciuto, se qualcuno lo vede, mi auguro che lasci anche un commento in modo da condividere il suo personale metodo di verifica dei siti. Buona fortuna a tutti! Buona fortuna a tutti!